Arretrato Bixio numero 6 Silott con la Blu di Meri attaccata da Belzebù Insiste l'allievo di Vincenzo Luongo ma gli rientra la Blu di Meri e Belzebù allargo l'errore di Blu Train Cavallia a metà della prima curva con Belzebù che insiste un freeway con un po' di spesa 14,6 a partire e l'allievo Jet di Vincenzo Luongo per il training di Finetti è un wishing stone al comando e così fila indiana dopo il quarto iniziale che se ne va in 30 tira un po' i remi in barca buon Lomino Lomino Dagnano anzi facciamo i complimenti all'altro Lomino Lomino Toscano che ieri ha inizio di corse e ha vinto il primo Gran Premio e quindi bisogna menzionarlo Federico Esposito 46,6-600 lui può entrare nel Nobel oppure negli Oscar per aver vinto, sempre Federico Esposito questo primo Gran Premio dopo il Covid e il lockdown uno o tre è un po' di spicciolo il mezzo miglio si formano tre pariglie l'andatura è scemata completamente e Belzebù al comando con allargo Bixio che ha recuperato 17,7 è il primo chilometro però tutto sommato non è male l'andatura e le tre pariglie affrontano la penultima curva deve essere un po' comandato questo allievo di Gallo perché fa un po' di difese ritorno a buono buono allargo di Blu di Meni mentre Belzebù ha sempre una figura davanti penultimo rettilineo si affaccia a Bibop Fermo con il giovane Porzio 600 finali la frazione in 29,9 questo è i 400 ma per il momento rimane là Bibop Fermo i cavali affrontano l'ultima curva con Belzebù che comanda e grado ancora 2-2 il miglio si riaffaccia il giovane Porzio con il suo Bibop Fermo Belzebù sembra ancora controllare the situation retta d'arrivo con Belzebù che allunga e si distende prende vantaggio viene via bene Bibop Fermo ma viene alla grande anche Bizerab e mentre Belzebù non è quel Belzebù là ma è quello di Finetti è netto primo mentre la Blu di Meri lungo i paletti si salva e rientra agli avversari addirittura a 2,30 meno una linea 1,14,9 notevole costo costo di questo cresciutissimo che noi lo notammo io e il buon Emilio Migliaccio in quel del Garigliano al debutto un figlio di Wishing Stone Finetti al training alla proprietà ma in Salchi in un periodo veramente magico tanto per cambiare l'omino di Agnano e cioè Vincenzo Lungo bene la Blu di Meri benissimo Biccio buono per la prossima è tutto linea lo studio Biccio